daniele testi a transport logistic con ship un periodo possiamo dire effervescente per esare un effemismo però partiamo da così un po dalla presenza vostra oggi a monaco e quindi diciamo anche dalle cose importanti che state portando avanti dalle strategie che da oggi alla fine dell'anno come dire si materializzano per l'azienda ma ci sono come ogni gruppo ovviamente si lavora molto e poi materializzare le operazioni richiede poi tempo quindi si vedono i risultati poi nel lungo tempo è evidente che però ci sono dei progetti in corso importanti in italia come l'espansione del termine di la spezia dove proprio pochi giorni fa è stato fatto un ulteriore passo avanti rispetto a un iter che è comunque complesso perché la spezia un operatore privato investirà più di 250 milioni di euro per espandere la capacità del porto fino per il nostro termine fino a più di 2 milioni di teo per fare questo con un progetto dove ci sostituiamo di fatto al pubblico per realizzare banchine per realizzare nuovi 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 piazzali ovviamente bisogna fare le cose all'interno del di quelle che sono attualmente le leggi quindi come fosse un vero e proprio appalto pubblico questo fa sembrare ogni tanto le operazioni più complesse ma in realtà è che ci vogliono gli step necessari quindi la spezia si espanderà si espanderà per essere sempre di più un gateway internazionale quindi abbiamo sappiamo già che nei prossimi anni arriveranno navi che saranno ancora più grandi quindi non soltanto quelle attuali da 16 mila ma arriveranno anche le 20 mila le 23 mila quindi bisogna essere pronti adesso e l'azienda sta facendo tanto non solo lato banchina ma direi anche lato retro banchina perché come sapete poi contemporaneamente l'autorità portuale sta sviluppando il nuovo parco ferroviario non la nuova situazione di binari perché la spezia dovrà una volta terminato il progetto di espansione almeno riuscire a fare un 3 un container su due movimentarlo via treno quindi questo è l'obiettivo a livello di scenario noi siamo arrivati ieri mattina a monaco e abbiamo partecipato a un evento che uir interporti uniti ha diciamo organizzato con i porti c'è finalmente dico finalmente perché ne sentiamo parlare da tanto una sensazione che effettivamente è una collaborazione famoso concetto di intermodalità che in italia è sempre stato piuttosto come dire è rimasto sempre un po indietro rispetto allo standard europeo si stia sviluppando in maniera importante collaborazione fra i porti quindi e gli interporti ce la facciamo finalmente forse siamo vicini a un'operazione diciamo effettiva beh su questo non siamo consci ma non è il soggetto adatto a rispondere perché per noi questa novietà facciamo 50 anni nel 2019 ricordiamo sempre a tutti quanti che nel 1969 quando l'azienda ha iniziato facevamo i treni da torino con le parti smontate delle fiat 124 le portavamo a fos a quel tempo e poi con una nave fino a casablanca quindi per noi l'intermodalità in realtà è un concetto che è innato con il concetto di terminalismo i terminal dove con ship opera sono terminal raccordati che vedono nel servizio ferroviario un elemento di competitività per estendere l'area di servizio per aumentare l'efficienza quindi poter avere una rotazione delle merci all'interno del porto sempre più veloce quindi è vero c'è un'attenzione sempre più importante sul tema dell'intermodalità per un gruppo come il nostro non possiamo aspettare meccanismi di sistema quindi abbiamo sempre fatto da un po da voglio dire di apripista su questa cosa lo dimostra che cosa è diventato il terminal del melzo 300 mila metri quadri la più grande piattaforma privata intermodale che oggi è in grado proprio di fare quel lavoro di cerniera tra i porti e di mercati oltre alpe fino a pochi anni fa questo sembrava diciamo semplicemente un disegno su un powerpoint è evidente che invece adesso questo è realizzabile e la cosa positiva che dovrebbe essere ancora più competitivo nel momento in cui quelle infrastrutture al gottardo al brennero saranno finalmente diciamo terminate perché poi facendo i conti vuol dire avere 30 per cento in più di capacità di carico sul treno treni più lunghi cose più pesanti e quindi questo poter oprire al mercato un qualcosa che sia anche economicamente competitivo off the record un attimo fa parlavamo anche di mercati in grande sviluppo che sono quelli della sponda sud del mediterraneo peraltro il transporte recentemente è stata e a pochi tra pochi giorni presenteremo il reportage relativo a questi paesi voi lì siete molto attivi si guarda guardando le previsioni economiche nei prossimi cinque anni vede che l'africa è uno dei continenti che a differenza di altre economie più mature crescerà crescerà con un tasso crescente quindi a differenza di realtà come gli stati uniti la stessa europa non parliamo dell'italia che a me diciamo vede tasse di crescita di zero virgola qualcosa quindi è evidente che il nord africa e il marocco in particolare ha deciso di trasformare diventare una piattaforma moderna ed è stato in grado non solo di sviluppare attività terminalistiche ma di attrarre vere e proprie attività riproduttive le 400 e passa aziende che sono state attratte in questi anni nella free zone dimostrano che con un mandato molto preciso facendo sì che ci siano tutte le condizioni di sburocratizzazione di vantaggio fiscale puoi creare dei veri e propri nuovi poli logistici su tangieri il gruppo è presente dal 2008 e adesso ulteriormente raddoppieremo la nostra presenza con l'espansione del nuovo termine con daniele testi per chiudere non possiamo eseguereci di parlare anche un po di gioia tauro perché d'altronde è un tema che è stato di moda ahimè per un po di tempo nel recente passato adesso le cose sono sistemate sono sistemate nel senso che l'azienda dal 16 aprile è uscita quindi oggi non siamo più parte dell'azione areato che è diventato 100 per cento punto di till siamo contenti e orgogliosi di tutto quello che è stato fatto negli ultimi 25 anni quando angelo ravanna ha avuto questa idea e poi la conship ha avviato il terminal portando le proprie navi i propri feeder molti davano quella per una diciamo un'avventura senza futuro abbiamo dimostrato seppur con tutte le difficoltà che in realtà quello è un porto di classe voglio dire è un porto che avrà un suo futuro siamo contenti per i colleghi perché avranno oggi un partner che potrà garantire loro un futuro e nuovi carichi per cui è una bella storia va raccontata in questo modo perché la realtà delle cose non ci sono dei come dire di un po di diremole sul fatto di aver lasciato comunque di aver perso forse un'occasione che poteva essere sfruttata meglio ci sono questi diciamo questi dubbi a volte che possono comparire no dire di no noi siamo un operatore terminalistico indipendente vuol dire che prendiamo terminal e cerchiamo di offrire servizi efficienti efficaci a tutti gli operatori marittimi che devono sbarcare è evidente che il transshipment è un meccanismo estremamente complesso che oggi serve alle linee per l'organizzazione dei loro servizi c'è una pressione sulle tariffe che porta l'operatore indipendente che deve remunerare il proprio capitale con dei meccanismi diversi da quelli che invece sono quelli delle linee che vanno a remunerare gli asset principali che non sono certo i porti ma sono le navi quindi sono due modelli di business diversi in questo momento un porto come Gioia Tauro è più diciamo sia più vicino al modello di business di quella che è una linea di navigazione come MSC rispetto a quello che è la nostra value integration dove è fatta come abbiamo detto prima di banchine ma anche di treni di trasporti e quindi direi che in questo momento non ci sono nessun tipo di rimpianto rimorso anzi speriamo che a breve si sfrutti quelle caratteristiche per portare nuovi volumi e riportare Gioia Tauro ai livelli in cui è stato nel passato chiudere una seconda parte dell'anno anzi ultimi mesi dell'anno estremamente attivi mi sembra di capire con diciamo attività di marketing importanti e estremamente frequenti sì normalmente cerchiamo poi non solo di sfruttare occasioni come queste transport logistica ogni due anni è importante ma è continuamente parlare con i nostri clienti andare anche dove sono i nostri clienti distanti quindi nella seconda parte dell'anno programmiamo quelli che sono i nostri road show sia negli stati uniti in nord america sia nell'asia per cercare di andare a parlare con spedizionieri caricatori raccontare le novità gli sviluppi che stiamo facendo non dando nulla per scontato non è dobbiamo continuare a raccontare dove miglioriamo dove possiamo ascoltare dove possiamo migliorare far sì che l'italia sia veramente vista con un ruolo con un ruolo di gateway per le merci non solo italiane ma anche internazionali per far questo bisogna prendere la valigetta come si dice l'aereo e andare là grazie grazie grazie